Parla tifoso della Juve. Benvenuti alla Juventus oggi. Prima del telegiornale come sempre lasciate il vostro mi piace e iscriviti al canale. Grazie, andiamo alla notizia. Pensando a giocatori senza contratto, la Juventus potrebbe portare un rinforzo esperto quest'estate. Mats Hammels, famoso difensore che ha trascorso quasi tutta la sua carriera al servizio del Borussia Dortmund, sta lasciando il club. Hammels continua ad essere uno dei migliori difensori d'Europa e, in questa stagione in particolare, ha aiutato il Borussia Dortmund a raggiungere la finale di Champions League. Quindi, senza dubbio, molti club stanno mirando a firmare gratuitamente con Hammels, tra cui la Juventus. Considerando le uscite di alcuni difensori, come Alexandro, Hammels potrebbe vestire la maglia della Juventus. Il tedesco è stato sempre legato alla Juventus negli ultimi anni. Credo che Hammels sia un buon difensore e, nonostante i suoi 35 anni, sia ancora in forma. Tuttavia, la Juve avrebbe dovuto prenderlo tre anni fa. Ora, penso che il club dovrebbe concentrarsi solo su giocatori giovani.